Musica 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 Bella a tutti ragazzi abbiamo venuto in questo nuovo video Oggi questo video sarà brevissimo Perché come due settimane fa sul mio canale stasera ci sarà una live Non sarà una live di giochi perché sapete che con la connessione che ho non me lo posso per il momento permettere Ma sarà una live seria su youtube ed esperimenti sociali E la terrò appunto alle 21 stasera insieme a Dani Su youtube, sul mio canale, spero che ci siate tanti perché parlerò di cose davvero 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 molto serie Praticamente per riprendere il discorso della live che abbiamo fatto io e Dani sabato sera E spero che ci sia davvero in tanti perché ci tengo davvero molto a questa live Anche perché diciamo ho dei discorsi da farvi che sono abbastanza seri E ho anche delle novità da darvi perché qualche cosa sta cambiando sul mio canale E qualche cosa significa che qualche serie è stata per il momento messa da parte e interrotta per iniziarla di nuovo Non vi dico altro, spero che ci sia davvero in tanti stasera perché ci tengo davvero tanto E niente, ci becchiamo stasera Bella 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 Bella